Le indiscrezioni su mancata nomina, futura nomina per Minenna in Consob sono vere e quando arriverà il Presidente eventualmente? Questo che manca su tre mesi dalla... Minenna è uno dei nomi? Minenna, l'indicazione deve farla il Presidente del Consiglio perché il Presidente del Consiglio di concerto ovviamente con il Presidente della Repubblica che controfirma una delle nomine che controfirma il Presidente della Repubblica quindi è Conte che ha in mano la partita e quindi ci aspettiamo, è lui che deve portarla in Consiglio dei Ministri in qualche modo deve comunicarci però avete ragione anche voi che da un po' di tempo che la Consiglio non ha il vertice sarà il caso che insomma venga fatto Viste il momento anche delle... Sì, sembra un po' dissociati, scusi No, 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 non mi dissocio, nel senso che le cose che dipendono da me, le cose che in qualche modo Conte ha preso nella sua responsabilità è come questa, l'ha presa e credo che ne ha discusso e ne discuterà col Presidente della Repubblica che ha, diciamo così, l'onere e poi la responsabilità di controfirmare la proposta Grazie a tutti!